O.C.I.T. La C.I.T. O.C.I.T. Ho portato la PlayStation 3! Oh, ma è Alessandro! Parlaci tu Matti! Chi è? Nonononono... Questa... non è cosa mia! Anzi... è di mio fratello! inoltre la playstation 3 mi fa schifo a me non me ne intendo io cosa mamma tu? di cosa non te ne intendi? della playstation 3 eeeh anzi alessandro mamma io allò ci vai tu? no ingi va no venga per lui ingi no uuh uuh ma Grazie a tutti.